signore e signori ben ritrovati con il nostro trading club negli scorsi giorni vi abbiamo portato alla luce un po il caso game stop il caso short squeeze avviato da investitori privati che mise in difficoltà anche un hedge fund vogliamo riprendere questa settimana proprio da questo punto per tenervi aggiornati un po sulle vicissitudini di questa storia ma anche per andare oltre a vedere altre opportunità e possibilità di questo tipo delusi da un sistema fiscale corrotto inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su youtube unisciti al nostro grido i miei soldi li gestisco io in particolar modo cerchiamo innanzitutto di capire un po quello che è successo a quello che è successo a game stop dopo questo rilancio speculativo e un po quali possono essere le casistiche successive in particolar modo possiamo vedere come adesso vediamolo graficamente eccolo qua possiamo vedere come in effetti game stop dopo una bella rialzo iniziale ha avuto sicuramente un rientro altrettanto veloce se vi siete persi un po questa storia il consiglio è quello sempre qui dal nostro canale youtube di andare a riprendere nella sezione video quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi sì sul caso game stop ma un po a 360 gradi su tutto quello che facciamo qui c'è stato il caso di uno short squeeze ovvero c'erano tanti investitori posizionati al ribasso su questo titolo perché era un titolo prossimo al fallimento poi c'è stata una rinnovato interesse rialzista quando ciò avviene le azioni incominciano a crescere chi si è posizionato short per paura chiude e rilancia ancora di più il mercato l'immensa particolarità di questo caso è che il rialzo è stato avviato da operatori privati e quindi solitamente è più una mossa un movimento da istituzionale in grado da causare un movimento di questo tipo al di là di quello che abbiamo già detto possiamo vedere come rispetto ai massimi raggiunti giorni scorsi ormai il titolo è sceso in maniera piuttosto importante arrivando ad una perdita dai massimi superiore all'ottanta per cento questo perché se il mercato non è effettivamente sostenuto da qualcosa di reale tutto questo può trasformarsi in un nulla di fatto e quindi in un in un andamento poi assolutamente contrario all'azione iniziale oltre a questo vi voglio ricordare che la SEC ovvero l'istituto l'organo di avvicinanza americano ha avviato proprio una investigazione su questo fatto sì su chi ha ideato un po' questa azione speculativa quindi è indagato uno degli ideatori su Wall Street Bet un po' di questa mossa speculativa ma c'è sotto indagine un po' tutto il settore anche un po' come i vari broker e i vari operatori si sono comportati possiamo vederlo anche da qui un articolo Bloomberg tradotto in italiano e staremo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni questo è un articolo del 3 febbraio quindi la azione investigativa da parte della SEC è stata già avviata da tempo quindi vedremo un po' come andrà a finire vi terremo come sempre aggiornati ma un po' come appena spiegato lo short squeeze non nasce con GameStop ma con sicuramente il mercato è qualcosa che abbiamo già visto in passato e abbiamo notato diciamo un potenziale rialzista del mercato in generale su alcuni titoli che hanno in effetti un posizionamento short piuttosto interessante quindi a breve andiamo un po' a scoprire quali possono essere dei prossimi titoli appunto interessati da uno short squeeze appunto perché vi stavo dicendo che non si tratta di una cosa nata nel 2021 addirittura si dice che il primo short squeeze subito da un istituzionale quindi non solo da privati è qualcosa che ci riporta addirittura indietro nel 1608 qua c'è un libro che racconta diciamo del primo mercato azionario del mondo e quindi torniamo indietro addirittura di 400 anni quindi parliamo di tantissimo tempo fa ma andiamo un filino più nel dettaglio un piccolo aneddoto poi torniamo ai giorni nostri torniamo a vedere i titoli più interessanti ma anche questo mi sembrava altrettanto interessante da menzionare fondamentalmente Isaac Lamer scusate se la pronuncia non è delle migliori ma non conosco il francese e quindi potrei commettere in questo senso qualche errore possiamo dire che è stato uno dei primi istituzionali appunto a rimanere un po' fregato da un possibile short squeeze infatti insieme ad altri azionisti dell'allora Dutch East India Company ha fondato una sorta di gruppo segreto poi dei maggiori dettagli chiaramente li potete trovare anche all'interno di questo articolo con lo scopo appunto di vendere allo scoperto le azioni di questa società di cui lui comunque un 25% circa n'era in possesso diciamo che lo scopo di questa mossa da parte sua era più una vendetta ecco un po' nei confronti del management della società la vendita allo scoperto fu fatta e nei primi tempi mise in difficoltà diversi membri diversi azionisti che dovettero poi che dovettero poi vendere le azioni ad un prezzo inferiore rispetto a quello che era in quel momento però la compagnia scoprì Lemaire e lo accusò appunto di aver manipolato contro di loro il mercato lui respinse diciamo queste accuse ma quello che fondamentalmente cambiò le sorti di questa storia fu nel 1610 in cui gli stati generali proibirono la vendita allo scoperto e quindi il prezzo delle azioni poi successivamente schizzò enormemente al rialzo e quindi lui rimase un po' con il cerino in mano e fu un po' la sua fine finanziaria e generale quindi di queste mosse anche tornando indietro di tantissimi anni ne possiamo rivedere e riscoprire ma cerchiamo, visto che quelle azioni diventerebbe un po' difficile tradarle in questo momento andiamo a vedere quali potrebbero essere i nuovi candidati per dei possibili short squeeze iniziamo da questa società CHRS, il ticker su Interactive Brokers si tratta di una compagnia nel campo biomedico delle scienze e siamo andati a prendere azioni che hanno una capitalizzazione superiore a un miliardo di dollari e con posizioni short come percentuale del flottante totale maggiore del 10% per flottante si intende il totale delle azioni emesse da una società e disponibili sul mercato quindi questa può essere una delle prime candidate abbiamo poi quest'altra azienda SAH questa lavora invece nel campo automotive abbiamo poi quest'altra CFX e infine CYTH potrebbe ecco non succedere niente su tutto ciò ma potremmo vedere anche dei movimenti piuttosto forti e violenti come quelli visti su GME e NAKD come vedete la struttura grafica è sicuramente molto differente quindi diciamo che in questi casi si tratta di società che erano in grossa difficoltà finanziare quindi nonostante ci possa essere un'azione speculativa vantaggiosa su questo short squeeze se poi non ci sono delle basi solide il prezzo può tendere a rientrare viceversa diciamo con i dovuti paragoni e differenze anche il forte rialzo su Tesla è stato un po' avviato da uno short squeeze però le basi societarie, le aspettative forse più che le basi societarie sono sicuramente più solide di una GameStop perché Tesla ha sicuramente un potenziale di crescita essendo in un business molto trainante in questo momento quello delle auto elettriche mentre GameStop ha un business molto più in difficoltà essendo videogiochi ed essendoci ormai una grandissima presenza online diversamente queste aziende potrebbero anche riuscire a sostenere questo short squeeze e a mantenere anche un po' il loro posizionamento quindi sono interessanti sicuramente da tenere sott'occhio da tenere sotto controllo e vi terremo sicuramente aggiornati un po' su questi titoli ma sicuramente anche su GameStop un po' tutta la faccenda che vi abbiamo raccontato quindi non aggiungo altro per oggi ma vi ringrazio per essere stati con noi anche in questo appuntamento ci saranno altri argomenti molto interessanti nei prossimi giorni che vanno a spaziare anche su argomenti differenti come il settore aerospaziale la quotazione dell'acqua e via dicendo quindi rimanete sempre connessi aggiornati con il nostro canale YouTube l'invito è quello di iscrivervi e perché no mettere un mi piace se vi è piaciuto questo contenuto o gli altri che abbiamo fatto grazie ancora una buona serata a presto a presto